Cosmo Prof per Trebosi Direi che anche quest'anno Cosmo Prof per Trebosi è un successo, sta andando tutto benone, ci sono tre giorni di grande affluenza, tanti contatti e quindi non possiamo che dirci soddisfatti. Le novità sono la Bon Bon Collection dei colori pastello molto belli, tantissimi glitter, quindi tantissimo colore e poi gli smalti semipermanenti che sono sempre un must. Tant'è che vogliamo farvi vedere anche se è possibile la nuova Rainbow Style, come si chiama Elisa? Rainbow Style, fatta con Polish Pro e glitter, quindi tantissimo colore sulle unghie. Per quanto ci riguarda la cosa fondamentale è la qualità del prodotto, tant'è che Trebosi per quanto riguarda la ricostruzione è uscita con una nuova linea dedicata alle professioniste che si chiama TB Gel System, tutta una serie di gel da ricostruzione e liquidi proprio per chi lavora e fa la ricostruzione sulle unghie. Abbiamo i nuovi smalti, quindi per chi invece preferisce una manicure più classica, comunque colorata, tanti smalti e delle ottime creme mani, piedi, gambe per il benessere anche delle nostre estremità.